A Martos, piccola cittadina della Spagna meridionale, non credeva nei propri occhi quando si sono visti arrivare quella lettera da Cellammare. Il loro santo, amatore, nato proprio lì, in quella cittadina che un tempo si chiamava Tuccitano, è venerato anche in Italia, addirittura patrono di un paese di 2500 anni e a pochi chilometri da Bari. Non solo, nella nota del comune è scritto che nella chiesa madre di Cellammare è custodita una tibia del santo. Gli spagnoli restano tuttora scettici, pure dopo aver visto. Il corpo del santo non fu mai ritrovato, com'è possibile essere certi che quell'osso sia il suo? Ciò nonostante hanno accettato con entusiasmo la proposta e così il sindaco Michele Laporta, il vice sindaco della cittadina andalusa, hanno firmato un vero patto di fratellanza. Ma perché Cellammare, dove gli amatori e gli amatrici, un tempo erano nomi gettonatissimi, venere il santo spagnolo, martire della fede cristiana, trucidato per il suo tentativo di evangelizzazione dei musulmani? Andò pressappoco così, era il 1670. Domenico del Giudice, principe di Cellammare, duca di Giovinazzo, andò in visita da Papa Clemente X insieme al luogotenente del re di Napoli, Pietro d'Aragona. Il santo padre donò una reliquia, appunto la tibia di Sant'Amatore a Don Pedro, che a sua volta la regalò al principe di Cellammare, che qualche anno più tardi lo diede in dono alla chiesa di Santa Maria Annunziata, la chiesa matrice del paesino barese, dove Sant'Amatore si festeggia la prima domenica di maggio, con una rievocazione storica che quest'anno è stata abbissata in occasione della sottoscrizione del patto di fratellanza con Martos. Il punto di partenza per una collaborazione importante e duratura, ha assicurato il sindaco Michele Laporta.